Ha incontrato i sinti di Mantova, sono due le questioni, il blitz al trincerone ma anche la questione del campo nomadico. Per quel che riguarda l'operazione di polizia giudiziaria avvenuta su segnalazione di cose che probabilmente non vanno al trincerone da parte del parco del Mincio e con successiva operazione disposta appunto come da istruzioni della Procura della Repubblica, questa operazione non è oggetto di nessuna discussione, ho solo ribadito che dalle notizie che io ho acquisito come doveva essere logico non c'era nessuna motivazione di tipo razziale e gli accertamenti sono in corso e la Procura della Repubblica e la Polizia giudiziaria faranno le proprie valutazioni e i propri aggiustamenti indipendentemente dal punto di vista del Sindaco. Mentre invece rimane il problema dell'emergenza abitativa, la volontà è quella di chiudere il campo nomadi, una volontà condivisa anche dai cittadini mantovani sinti e quindi l'impegno del Sindaco è stato quello di dare maggior vigore all'attuale tavolo, il tavolo Men Sinti che vede la partecipazione non solo del Comune ma anche dall'amministrazione provinciale, dell'associazione di volontariato, di Sucardrom, della Caritas e della Fondazione Marcegaglia oltre che le rappresentanze dei piani di zona, questo tavolo ha una pluralità di problematiche da affrontare fra cui l'emergenza abitativa o comunque la tematica abitativa, noi come Comune di Manto per la parte che ci compete cercheremo di mettere maggior vigore in questo tavolo per la soluzione di questo problema.